...pubico, che può essere semplice, tutti gli atomi ai vertici del nostro cubo, a faccia centrata o a corpo centrato. Se uno dei lati del cubo si allunga, diventa tetragonale, e qui possiamo avere tetragonale semplice, corpo centrato, cioè corpo centrato vuol dire che c'è un atomo al centro del nostro sistema. Possiamo avere un sistema esagonale, un sistema romboendrico, ortorombico, guardate qua, tutti i lati differenti ma con gli angoli al vertice 90 gradi. Monoclino, abbiamo tutti i lati differenti, due lati 90 gradi e un lato non di 90 gradi, e il triclino, che vedete qui, tutti i angoli e tutti i lati differenti. Se cliccate su uno qualsiasi di questi disegni, dovrebbe partire l'animazione che ci fa vedere come si configurano nello spazio questi reticoli. E quindi, insomma, per una visione un po' più chiara della struttura stessa. Possiamo vedere questo, appunto, il cubo che faccio entrate, corpo centrato adesso, li vedremo tutti quanti, ne vediamo solamente alcuni, anche se in realtà sono tutti inseriti. Il corpo centrato, appunto, presenta questo atomo al centro e gli atomi agli apici. Capite bene che qui la differenza grossa tra questa struttura qui e, ad esempio, il faccio centrate, che vediamo qui, beh, è sicuramente dovuta, legata alla differente densità della struttura reticolare stessa e alla differente distribuzione dei pieni e dei vuoti. Cosa voglio dire? Nel reticolo cubico, faccio centrate che vediamo qui a ruotare, noi abbiamo in pratica una densità piuttosto alta, perché per unità di reticolo, rente di cubo, noi abbiamo otto atomi ai vertici. Ogni atomo contribuisce per un quarto, il che vuol dire a questo punto un atomo, più uno, due, sei facce, sei facce tutte con mezzo atomo, quindi altri tre atomi. Quindi la densità di questo reticolo è 4 sostanzialmente, però con un vuoto piuttosto grosso localizzato al centro. Hai fatto caso? Se andiamo a vedere il discorso relativo, invece, al cubico corpo centrato che abbiamo qui, qui la densità è differente, perché abbiamo un atomo centrale, quindi un atomo che in pieno appartiene al reticolo, più un quarto di, scusate, un ottavo, sto sbagliando, un ottavo di atomo per ognuno degli atomi al vertice, sono otto, e qui in tutto nel reticolo abbiamo due atomi. D'accordo? È chiaro? Vi vedo bloccato? No, tutto chiaro? Noi abbiamo presente ogni atomo, se voi qui fate il reticolo nello spazio, avete tanti cubi in pratica. Bene, il singolo cubo è costituito da che cosa? Dall'atomo al centro, più la frazione di ogni singolo atomo che contribuisce a quel reticolo lì. In questo caso è un ottavo per otto, perché sono otto gli atomi ai vertici, ognuno di questi contribuisce per un ottavo, più un atomo al centro e due. In pratica ci ritroviamo con una densità decisamente più bassa rispetto al reticolo cubico faccia centrale. Però con una differenza, in questo caso il vuoto è più distribuito all'interno del nostro reticolo cristalino. Quindi in pratica abbiamo che il reticolo cubico faccia centrale risulta avere meno vuoto ma più concentrato in una zona particolare dello spazio. Mentre il reticolo cubico corpocentrato risulta essere meno denso, quindi con più vuoto, ma questo vuoto più spartagliato, più distribuito all'interno del reticolo cristalino stesso. Mi focalizzo molto sui reticoli cubici perché come vedremo nell'affrontare i problemi relativi agli acciai sono fra i reticoli più importanti. Quindi ricordiamo anche il tetraconale corpo centrato che vedremo anche questo di una certa importanza. Questa è la sua rappresentazione tridimensionale e la sua rotazione nello spazio. Non li ho fatti questi video evidentemente, è uno degli indirizzi che trova Zoom Web. Sono fatti molto bene perché non approfittarne e quindi in pratica abbiamo questa disposizione. Certo, abbiamo questi 14 reticoli di Bravet con i quali appunto i vari reticoli cristallini possono andare a formare le varie strutture cristalline quindi secondo i quali i vari materiali metallici possono solidificare o attenzione possono trasformarsi allo stato solido. Noi scopriremo durante questo corso che per esempio il ferro, l'FE, durante il suo raffreddamento dal fuso al solido alla temperatura ambiente cambierà più volte il suo reticolo cristallino, inizierà dallo stato liquido allo stato solido a diventare da liquido quindi quando parlo di liquido parlo di un ordine a cortoraggio, capiremo bene dopo cosa vorrà dire ordine a cortoraggio. Parliamo poi di una trasformazione allo stato solido in cui diventa un cubico corpo centrato, verrà denominato come ferro delta imparerete bene cosa vorrà dire. Poi a una certa temperatura, c'è una trasformazione allotropica, allotropica significa in altra forma, in cui il reticolo cubico corpo centrato diventa a 1394 gradi centigradi, diventa cubico faccia entrate, ferro gamma, e poi di nuovo a 912 gradi abbiamo un'ulteriore trasformazione di nuovo dal cubico faccia entrate al cubico corpo centrato. Qui stiamo parlando solo del ferro puro, attenzione, perché poi se aumentiamo l'aggiunta di elementi di lega vediamo che queste temperaturi possono cambiare, possono comparire ulteriori reticoli di cristallini, possono comparire nuove trasformazioni allotropiche. Se variamo anche la velocità di raffreddamento abbiamo ulteriori trasformazioni che possono avere luogo. Tutto questo, vi ripeto, è vero all'iranno microscopico, quindi potrebbe sembrare una recuperazione, diciamo, da strutturisti. In realtà abbiamo un immediato riflesso sul comportamento macroscopico. Quello che vi ho appena detto implica comportamenti meccanici macroscopici differenti, quindi è importante poterlo conoscere. Ci focalizziamo sui cubici faccia entrate, esagonale compatto e cubico faccia entrate, perché sono quelli sui quali poi alla fine abbiamo la maggioranza degli stati soliti dei metalli. Cubico faccia entrate, qui la lista è abbastanza evidente. Ferro gamma, cioè la cristallizzazione cubica faccia entrate del ferro pura. Alluminio, argento, oro, calcio, rame, nickel, piomo, palladio, zirconio. Non dovete sapere la memoria, evidentemente. Però dovete assolutamente saper leggere i simboli chimici. Se lo sapete fare, imparatelo, perché poi altrimenti rischiate grossissimi equivoci e durante l'esame e nel vostro corso di studi e della professione. Il sale corale compatto, berillo, cadmio, cobalto, magnesio, non fate confusione, non è manganese, è magnesio, titanio, zinco. Ancora, cubico, corpo centrato, abbiamo il berillio, il cromo, vedete il ferro alfa, cioè un'altra forma allotropica del ferro, che è stabile, il ferro puro ha una temperatura più bassa rispetto al ferro gamma. Potassio, litio, molibdeno, sodio, niobbio, tantalio, manadio, tumsteno, doppio pulsino che esce fuori dal vecchio nome Wolframio e zirconio. Quindi queste sono le principali reticoli cristallini che normalmente andremo ad affrontare, ma il che non vuol dire che gli altri 11 noziani importanti sono meno frequenti, sostanzialmente. Bene, i reticoli cristallini sono certamente importanti, ma in qualche modo sono utili fino a un certo punto, perché in realtà, come vedremo poi al futuro, un metallo, un oggetto, un manufatto solido, che sia totalmente costituito solo da un reticolo cristallino, come quelli che abbiamo appena visto, non può esistere. In parte per motivi termodinamici, cioè, come vedremo fra poco, esistono dei motivi termodinamici per i quali all'interno dell'enticolo cristallina, ad esempio, ci siano delle vuoti, per la struttura cristallina, o degli elementi, degli atomi interstiziali, vacanze, appunto, interstiziali, e poi vedremo che a causa invece anche di motivi cinetici, cioè a seguito, ad esempio, dei processi di raffreddamento, avremo delle difettosità che non hanno motivi termodinamici da esistere, ma che esistono e che possono pesantemente influenzare il componente macroscopico. Se noi facciamo due conticini della serva proprio, qui si tratta di un modello assolutamente didattico, quindi in qualche modo è giusto per approcciare il problema, e in qualche modo cerchiamo di quantificare qual è l'energia necessaria per aumentare, per rompere un legame fra due elementi, noi quando carichiamo, sollecitiamo un pezzo, noi abbiamo in pratica, noi sollecitiamo il nostro materiale, allontaniamo fra di loro due atomi, in realtà un filare di atomi, anzi un intero pieno di atomi rispetto all'altro, facendo due conticini rispetto all'energia potenziale, vedendo che appunto l'andamento della forza conseguente può essere approssimato mediante un pezzo di una sinusoide e facendo segno di piccole sostituzioni otteniamo questo valore critico che è pari al valore di carico, ovviamente molto approssimato, molto, come dire, di prima approssimazione, il valore del carico che dobbiamo approssimare per portare la distanza fra i due atomi da quella di equilibrio al valore massimo oltre il quale il legame si perde. Questo valore del carico che io applico, sempre in primissima approssimazione, trascurando qualsiasi problema di plasticizzazione, cioè deformazioni plastiche, abbiamo parlato stamattina, facendo tutta una serie di presentazioni anche molto pesanti, deve essere comparato per rompere il pezzo a che cosa? Qual è la quantità di energia che viene a essere formata quando io vado a rompere un oggetto in due? Beh, la formazione di nuova superficie. Voi sapete che se io un pezzo, un oggetto lo rompo, creo nuova superficie. Nuova superficie viene a formarsi, implica l'immissione sul sistema dell'energia necessaria a creare questa energia superficiale. Se io vado a comparare questo valore con quello relativo all'energia superficiale, non stiamo qua a fare i conti, è solo qui ci sta tracciata la sequenza, non voglio entrare nel dettaglio, ma abbiamo un valore della sigma critica teorica, ovviamente vi ripeto con tutte le approssimazioni e le imprecisioni che abbiamo fatto, basata solo sul fatto che io tirando rompo un pezzo e mi si creano nuove superfici, che è pari a questo valore qui, ma con zero la distanza atomica iniziale e il modulo di Youngham con S è la nostra energia superficiale specifica. Bene? Se faccio le sostituzioni, mi esce fuori che il valore critico necessario per rompere un acciaio ad esempio, qui ci ho messo 200 GPa, ho messo numeretti relativi all'acciaio, mi esce fuori un valore pari a 26 GPa. Se qualcuno di voi si ricorda i numeri dati stamattina su qualsiasi acciaio, i valori erano diversi ordini di grandezza più in basso. Noi avevamo che i carichi di disneramento l'interattura stavano nell'ordine di 200, 300, 500, 1000 MPa, cioè quindi in GPa vuol dire 1 al massimo, ricordo che il mega significa 10 alla 6, il giga 10 alla 9, il tera 10 alla 12, questi sono i prefissi da utilizzare. Quindi in pratica la resistenza teorica, se ricordiamo che il modulo di Young è circa 200 GPa, la resistenza teorica, appunto, ottenibile mediante una serie di passaggi numerici basati su una serie di approfittazioni anche abbastanza spinte, uscirebbe fuori circa a un decimo del modulo di Young, la resistenza reale di un manufatto metallico è invece circa un millesimo del suo valore, come ordini di grandezza stiamo parlando. Quindi c'è una netta distinzione, una netta differenza fra il valore teorico ottenibile da calcoletti numerici sulla base della conoscenza dei parametri reticolari, del modulo di Young e dell'energia superficiale che è in pratica il valore che viene considerato come necessario da dover aggiungere l'energia che deve essere immessa nel sistema durante l'ottura di un peso e i valori reali che invece sono osservati decisamente più in basso. E' chiaro che qualcosa all'interno del reticolo cristallino non torna, qualcosa all'interno del reticolo cristallino in qualche modo non rende conto della mancata idealità. Noi non possiamo rappresentare un reticolo cristallino di un metallo utilizzando solo i discorsi relativi ai reticoli di bravi perché poi questo modello non ci consente di avere una connessione con la reale capacità del nostro materiale di sostenere delle solidarizzazioni, anche solo quasi statiche come quella abbiamo appena detto, cioè si tirava lentamente il nostro sistema che era costituito da reticoli cristallini ideali. E infatti all'interno dei nostri sistemi metallici, dei nostri reticoli cristallini, abbiamo tutta una lunga lista di tipologie e di difetti che vediamo qui essere classificati secondo la loro dimensione. Possiamo parlare di difetti zero dimensionali o puntuali, interstizi, cioè elementi chimici che vanno a posizionarsi non nel reticolo cristallino ma nei vuoti disponibili vi ricordo per esempio il cubico faccio centrale, c'è un bel vuoto disponibile al centro quindi quello è sicuramente un luogo che può accogliere un'atomo ma anche il cubico faccio centrale ha dei siti che possono essere utilizzati vacanze, cioè punti del reticolo cristallino che mancano dell'atomo corrispondente oppure, e questo è il caso ad esempio degli elementi di lega, atomi sostituzionali prendiamo conto, non credo che nessuno di voi abbia avvenuto la tabella degli elementi ma insomma, più o meno dovreste ricordare il ferro, più o meno è come dimensioni simili al nichel, al cromo, si aggiunge un atomo di nichel all'interno di un reticolo cristiano di ferro dato che sono anche comparabili come dimensioni geometriche il nichel si va a sostituire al ferro, bene, quell'elemento comunque è differente rispetto al ferro è più grande o più piccolo, comunque è differente e la sua presenza comporta una distorsione, seppur non troppo elevata, del reticolo cristallino questa distorsione è certamente un difetto attenzione, quando dico la parola difetto non dovete per forza pensare a qualcosa di negativo tant'è che, come vedremo più avanti, noi metalli puri non utilizziamo mai noi utilizziamo sempre delle leghe, o quasi sempre delle leghe appena per gli impieghi meccanici abbiamo sempre delle leghe quindi l'aggiunta di elementi di leghe è una cosa assolutamente positiva in moltissimi casi, dipende poi qual è l'elemento che viene ad essere aggiunto però oggettivamente, dal punto di vista rigorosamente cristallografico un atomo aggiunto, sia esso si vada a posizionare in posizione sostituzionale cioè al posto dell'atomo matrice nel reticolo sia esso, per esempio, un atomo molto piccolo per esempio un metalloide, il carbonio, idrogeno, azoto sono atomi piuttosto piccoli che hanno la tendenza a posizionarsi invece negli spazi vuoti disponibili quindi vanno a fare gli interstiziali in questo caso bene, tutti questi sono per il nostro metallo a livello di reticolo cristallino dei difetti ma vi ripeto, nella parola difetto non dovete trovarci per forza un'accezione negativa e qui abbiamo alcuni esempi come abbiamo appunto appena detto vedete la vacanza? se noi qui approssimiamo il nostro reticolo cristallino con un modello bidimensionale il tridimensionale è solo più complicato da visualizzare ma alla fine è la stessa cosa immaginate questo piano di atomi proiettato verso di voi con gli stessi difetti messi all'interno bene, vedete la presenza di una vacanza il punto 1, cioè la mancanza di un atomo all'interno di un reticolo cristallino in corrispondenza di una posizione reticolare cosa implica? guardate bene, proprio a livello geometrico che gli atomi vicino tendono un po' a profittare di questa mancanza e si ricollocano, si ridislocano, si riposizionano comportando a livello del reticolo una sorta di deformazione quindi i parametri quando abbiamo visto prima la lista degli elementi dei reticoli di Bravais noi abbiamo visto in pratica una lista di parametri geometrici quando vi dicevo il lato qui sono parametri reticolari che sono caratteristici del metallo per quella determinata temperatura se io vado ad introdurre una vacanza come vedete il lato del quadrato in questo caso in questo caso cambia completamente d'accordo? l'auto intersiziale il 2, chi è? l'auto intersiziale è un elemento della matrice che si va a posizionare non in corrispondenza di un punto reticolare del reticolo ma si posiziona in uno spazio disponibile può succedere questo un'impurezza intersiziale è tipica degli elementi piccoli quando parliamo di elementi piccoli nel caso degli acciani particolari tipicamente parliamo di metalloidi carbonio, idrogeno, azoto se guardate la tabella degli elementi sono elementi piuttosto piccoli quindi fisicamente riescono a posizionarsi in particolare vorrei sottolinearvi vi anticipo ma poi lo affronterei in maniera molto pesante il discorso dell'idrogeno perché il discorso dell'idrogeno? perché in realtà il carbonio, l'azoto sono elementi che si trovano presenti all'interno del reticolo cristallino come atomi e quindi sono sicuramente più piccoli però sono comparabili con gli atomi del reticolo tipicamente appunto il carbonio può essere considerato come 6-7 volte più piccolo del ferro ad esempio nel caso invece dell'idrogeno l'idrogeno è una cosa un po' particolare perché l'idrogeno tende come sapete l'idrogeno è un atomo costituito da un elettrone che gira intorno a un nucleo quell'elettrone in realtà viene ad essere perso nel mare di elettroni nel mare di fermi in qualche modo si delocalizza all'interno del reticolo e in pratica il protone che costituisce il nucleo del nostro atomo di idrogeno entra nel reticolo cristallino e voi capite bene che il protone come atomo scusate il protone come nucleo ma al fine come protone è estremamente più piccolo di un atomo per ricordarvi un modello abbastanza utilizzato se consideriamo in scala un atomo di idrogeno pari a un campo di calcio il nucleo, cioè il protone che è al centro è grossomante il pallone al centro del campo di calcio se voi perdete l'elettrone capite bene è che la dimensione dell'atomo di idrogeno che va a interagire con il sistema è estremamente più piccola quindi che vuol dire? si riesce a mettere molto più all'interno del reticolo riesce a girare molto più facilmente tant'è che infatti i coefficienti di diffusione cioè la capacità di questi atomi di idrogeno di muoversi nel reticolo cristallino è molto più alta rispetto già al carbonio che non è poi tanto più grosso come atolo però appunto non perdendo il suo guscio di elettroni in realtà il carbone è molto più lento mentre invece l'idrogeno perdendo il suo unico elettrone si delocalizza e viaggia all'interno del reticolo cristallino portando a grossissimi problemi nel comportamento meccanico macroscopico guardate qui le mie recuperazioni a livello di comportamento fisico dell'elemento si trovano in immediato rispettivo al comportamento macroscopico esistono scale di sicurezza ad esempio che vengono costruite in acciaio bullonate normalmente e spesso quei bulloni sono zincati normalmente la zincatura utilizzata è una zincatura elettrolitica quella zincatura ha una procedura che comporta spesso delle condizioni tali per cui si carica l'idrogeno e il metallo se quel bullone non è stato opportunamente deidrogenato tipicamente si tratta di un discaldamento a 150-200 gradi centigradi in sei mesi la cascala crolla d'accordo? quindi vengono giù i bulloni come se piovesse e tempo sei mesi viene giù tutto quindi vi dico questo fenomeno che vi ho appena raccontato trova poi in campo meccanico un corrispottivo pratico assolutamente evidente assolutamente frequente tra l'altro più frequente quanto voi non possiate pensare ancora 4 e 5 sono due casi uno un po' più piccolo e uno un po' più grande la cosiddetta impurezza sostituzionale cioè il nostro elemento di lega ha dimensioni comparabili con la nostra matrice elemento grigio e in pratica si introduce nel nostro reticolo al posto dell'elemento base in posizione sostituzionale è chiaro che essendo comunque un po' più grande caso 5 o un po' più piccolo lui implicherà una certa distorsione del reticolo e una distorsione del reticolo vuol dire parametri reticolari locali differenti rispetto a quelli del reticolo di Bravais c'è uno del metallo chiamiamolo puro e il nostro sistema assolutamente pecca di idealità è un difetto poi vedremo se positivo o negativo comunque è un difetto rispetto al reticolo cristallino idealmente qui vediamo appunto le vacanze e gli auto interstiziali auto interstiziale lo stesso elemento si fa a introdurre diciamo l'auto interstiziale eccetera insomma l'auto interstiziale richiede o uno spazio piuttosto grosso nel poi posizionarsi oppure una grossa deformazione del reticolo cristallino da qualche parte si deve ficcare insomma la vacanza no è abbastanza frequente le vacanze sono una tipologia di difetto non so se questo è lucido ma lo diciamo già da adesso che in realtà hanno un motivo termodinamico di esistere voi non potete avere un metallo privo di vacanze e di conseguenza di interstiziali questo perché? per lo stesso fatto di non trovarci allo zero kelvin che cosa voglio dire? voi sapete già quello che avete fatto in qualche corso di fisica che un metallo per lo stesso fatto di trovarsi a una certa temperatura che non sia di zero kelvin in pratica da cosa è caratterizzato? da atomi in posizioni reticolari con gli atomi che oscillano rispetto a posizioni di equilibrio tanto più è alta la temperatura tanto più questi atomi si oscillano intorno a queste posizioni di equilibrio tant'è che poi a un certo punto a una temperatura abbastanza alta l'oscillazione è tale da far fondere il metallo questo è sostanzialmente il processo di trasformazione solito liquido potremmo dire così attenzione tutto ciò è corretto ma attenzione bisogna aggiungerci un parametro non so neanche come definirlo il fatto comunque che l'oscillazione non è identica identica per tutti gli atomi voi capite bene che la ampiezza media di oscillazione sarà ben determinata rispetto alla temperatura ma ci saranno atomi che oscilleranno un po' di più e atomi che oscilleranno un po' di meno secondo specificamente una gaussiana che darà una certa dispersione delle ampiezze di oscillazione questo vuol dire che cosa? che ci sarà sempre una coda di atomi un certo numero di atomi che avrà a qualsiasi temperatura una sufficiente capacità di oscillare tale da uscire fuori dal reticolo cristallino e lasciare questo buco è chiaro che questa capacità di oscillazione sarà tanto più alta tanto più alta sarà la temperatura perché tanto più alta sarà il valore medio di oscillazione tanto più numerosa sarà la coda di quegli atomi che hanno un'ampiezza oscillazione superiore in pratica allo spazio tra un atomo e un altro d'accordo? qualcuno mi ha perso già circa un quarto d'ora fa ma per ogni vacanza corrisponde all'interstizione? un'interstiziale dunque queste sono le cosiddette coppie Frenkel qualcosa del genere si e no lo possiamo vedere dal reticolo che abbiamo qui come vedete qua questo atomo qui può andarsene a finire qua dentro ma volendo può andare a finire qua chiamiamolo superfile quindi non è detto ci sia automaticamente una coppia che si genera dalla vacanza e genera un interstiziale però è possibile è un evento possibile insomma anzi ci sta proprio uno studio a riguardo una definizione ben precisa a riguardo però non è automaticamente correlabile insomma però ecco la cosa importante da capire è che voi non potete evitare di averlo cioè questo è un difetto che ha motivi termodinamici di esistere e sul quale voi non potete agire se non più di tanto insomma giocando con le temperature eccetera eccetera altre domande? qui abbiamo beh qui ci sta sul discorso delle vacanze eccetera ci sta un minimo di statistica vediamo che questo numero cresce con la temperatura c'è un'energia di attivazione queste formule qui sono spesso utilizzate appunto per definire energie di attivazione e frequenze di allontanamento ma l'importante è che voi abbiate capito che sostanzialmente abbiamo questa formazione di questi difetti che appunto hanno una ragione termodinamica di esistere e che fondamentalmente non possono essere totalmente eliminati già questo è un problema attenzione quando voi non potete venire un problema però potete tentare di sfruttarlo ai vostri fini che vedremo fra un po' tutta questa sequenza di difetti di cui vediamo per il momento solo gli aspetti negativi in realtà può essere poi sfruttata per migliorare un po' delle proprietà meccaniche altrimenti potrebbero essere solamente pessime e non potremmo assolutamente avere strutture con elevata resistenza meccanica la seconda tipologia di difetti che invece non hanno motivi termodinamici da esistere e che anzi appunto sono più che altro legati ad aspetti cinetici sono i difetti lineari detti anche dislocazioni cosa sono questi difetti lineari o dislocazioni sono difetti organizzati possiamo vederli qua qui abbiamo due tipologie anche graficamente abbastanza evidenti raccontiamole in questo caso quello detto appunto dislocazione a spigolo abbiamo un semi piano come se fosse un semi piano inserito a forza fino a metà all'interno dell'eticolo cristallino vedete? qui sopra il reticolo è buono qui sotto ancora è buono ma c'è un semi piano in più questo implica se vuoi vedere nel tridimensionale una sorta di tubo chiamiamolo così che comporta all'intorno una deformazione abbastanza importante e che questa deformazione varia a seconda del reticolo cristallino nel caso del cubico concentrato l'ampiezza di questa deformazione ad esempio è molto differente rispetto al cubico faccio elettrate in quest'altro caso invece la cosetta dislocazione a vite noi abbiamo un reticolo cristallino inizialmente ideale immaginiamo con delle forbici di tagliare un semi piano di questo reticolo cristallino a partire da questo atomo qui anzi da questo filare lo tagliamo e in materia genera di shiftarlo in questo modo qui di una distanza interatonica bene introdotti questi difetti all'interno del sistema vediamo che in pratica questi difetti ti consentono una deformazione plastica senza che sia necessario rompere un numero eccessivo di atomi che vuol dire questo? noto il fatto che queste difettosità per esempio qui è questo spigolo hanno un campo di deformazione a compressione e a trazione a seconda ci vediamo sopra e sotto per esempio in questo caso e questo vedremo che sarà importante nel caso appunto che oltre alla dislocazione siano presenti anche elementi di lega all'interno quindi un elemento di lega un atomo di carbonio che si trovi qui risentirà di questo campo di deformazione verrà attratto da questa dislocazione quindi questo sarà certamente un problema ulteriore ma vediamo che appunto queste dislocazioni quando sono sollecitate tendono a muoversi e muovendosi comportano una deformazione plastica immaginate tutto questo fortificato per molte volte e macroscopica ad esempio qua vedete qui se io sollecito questa dislocazione mi si rompe questo filare di atomi mi si ricostituisce quest'altra parte la dislocazione sta viaggiando stesso discorso continuato a sollecitare io ho l'affioramento della dislocazione su questo reticolo diciamo questo schema di reticolo con una deformazione plastica macroscopica senza che in nessun momento io abbia potuto rompere tutti i legami che è una cosa molto più pesante dell'energetico ma rompere tutti i legami a livello energetico contemporaneamente avrebbe consistito nell'avere un carico applicato molto più elevato per farvi vedere qualche esempio qui abbiamo per esempio una rottura che avanza secondo uno schema di dislocazione qui abbiamo questo schema di deformazione chiaramente di scala microscopica che non comporta una rottura contemporanea in tutti i legami e qua abbiamo un oggettino un bruco che avanza di dislocazione vedete il bruco non saltella a destra e sinistra a pie pari tutti insieme ma muove un'onda di dislocazione e avanza con una richiesta di energia abbastanza bassa questo appunto è un avanzamento vedete quest'onda che si propaga che è assolutamente conveniente rispetto a un movimento simultaneo di tutte le zampette del gruppo è un modello chiaramente biologico che però permette di capire che cosa? che la presenza delle dislocazioni consente deformazioni microscopiche poi immaginate queste dislocazioni non c'è presente una ma vedremo fra poco sono presenti in quantità enormi fra l'altro in strutture anche organizzate consentono in qualche modo di avere una deformazione macroscopica con sollecitazioni applicate più basse rispetto a quelle che potrebbero essere ottenute con un reticolo totalmente ideale primo di questo tipo di difettosità qui vediamo vi faccio vedere questi tre questi tre filmati questi fili che vedete sono proprio questi filari atorici questi sono foto sono filmati presi al microscopio elettronico a trasmissione consente di osservare proprio il filare della dislocazione sollecitate si muovono adesso qui lo faccio rivedere forse lo siete persi forse qui era più evidente vedete qua possiamo vederlo qui anche guardate questa qui questa qui per esempio notate io prima l'ho detto sono tantissime poi qui sembrano poche in realtà qui stiamo osservando un solo piano reticolare praticamente ho pochi piani reticolari con questo microscopio trasmissione immaginate tutto moltiplicato sul tridimensionale d'accordo? quindi appunto se noi sollecitiamo una dislocazione questa tende a muoversi dipende molto dalla tipologia di sollecitazione dalla direzione applicazione del carico e dipende anche dal piano reticolare su cui questa dislocazione può muoversi e in questo caso vi faccio vedere una simulazione per un sistema di atomi pari a 10 o 9 atomi di rame come si collocano le dislocazioni nel tridimensionale quando vi dicevo che queste dislocazioni sono numerose e sono elettricate ogni tubicino praticamente rappresenta il filare di atomi intorno alla dislocazione in pratica le dislocazioni in un reticolo cristallino sono una sorta di groviglione immaginate un reticolo di un gomitolo di lana sostanzialmente bene ogni filo è una dislocazione capite bene che tendono a intersecarsi fra di loro quindi in realtà quando io sono lecito non tutte le dislocazioni partono partono solo quelle che rispetto ai piani reticolari possono muoversi realmente e queste dislocazioni fra di loro possono a seconda della densità della loro quantità anche intersecarsi fra di loro questo dettaglio lo vedremo poi più avanti quando appunto andremo a vedere un po' meglio come queste dislocazioni realmente possono essere gestite cioè quello che adesso per il momento stiamo vivendo come un difetto cioè abbiamo detto queste dislocazioni sono il motivo per cui non abbiamo valori del carico di rottura pari a quelli ideali ma sono di parecchie volte più basse parecchie volte di grandezza più in basso in realtà vedremo che potranno essere sfruttate proprio ai fini di un incremento delle proprietà meccaniche cioè potremo sfruttare questi difetti qui abbiamo la simulazione dell'intersezione della dislocazione sempre nel stesso blocco del nostro insieme di atomi di rame qui per farvi capire vi ripeto che quello che si vede quello che si osserva è un numero di dislocazioni estremamente ampio e che quindi quelle che abbiamo visto prima erano solamente quelle che con lo strumento riusciamo a misurare a osservare su quel piano reticolare microscopica di trasmissione è un strumento molto particolare molto complicato e che quindi appunto permette di fare delle misure solamente legate al nostro piano di osservazione qui vediamo come evolve la microstruttura sollecitando qui abbiamo la parte di canti deformazione qui sotto vediamo per spessori differenti cosa succede alle dislocazioni che sono rappresentate come linee all'interno del nostro sistema quello che voglio dirvi che cos'è allora è in pratica il fatto che queste dislocazioni riescono a muoversi si intersecano si bloccano perché ogni punto di intersezione è un punto di blocco hanno un inizio e hanno una fine questi inizi e questa fine normalmente coincidono con un bordigrano possono coincidere con particelle che più avanti chiameremo inclusioni non metalliche che possono appunto fungere da origine o fine della dislocazione stessa e nel loro modo in realtà possono muoversi su piani reticolari ben precisi non possono muoversi su qualunque piano reticolare questo dipenderà poi anche dalla direzione applicazione del carico dalla tipologia e dalla direzione del grano cristallorino e quindi da tutta una serie di fattori anche cristallografici le dislocazioni attenzione ne abbiamo detto sono un difetto importante e abbiamo detto sono presenti in grande numero all'interno di un metallo sono originati sostanzialmente da problemi chiamiamoli così che possono avere luogo durante il processo di solidificazione ma in realtà quelle che vengono ad essere ottenute durante il processo di solidificazione sebbene numerose non sono sufficienti ancora a spiegare quella differenza fra valore teorico e valore reale nella prova nel caso di una solicitazione attenzione questo perché noi durante il processo di solicitazione di attrazione abbiamo anche un meccanismo che permette la loro moltiplicazione cioè in realtà non è che una volta solidificato le dislocazioni hanno una densità un numero ben preciso e quello è fino alla morte in materiale no! se noi sollecitiamo queste dislocazioni oltre a muoversi possono moltiplicarsi osservate qua che succede? qui guardate qui ci sta un punto qui e un punto qui che sono dei punti fissi qui il pezzo viene sollecitato d'accordo? vedete cosa sta succedendo? osservate bene qui a fianco a sinistra avete lo schema del meccanismo in pratica la dislocazione in questo caso è molto bella questa sequenza è bloccata qui e qui un po' come è bloccata qui e qui sollecitando la dislocazione abbiamo visto prima ma si muove cioè questi due piani tendono a muoversi però rimanendo bloccati il punto di inizio e il punto di linea facciamo ripartire il filmato evidentemente si muoverà restando bloccati questi punti continuiamo ad applicare il carico si blocca si riunisce e ottengo questo ma questo vuol dire che io da una dislocazione ne ho ottenuta due che è appunto un processo di costruzione chiamato meccanismo di Frankrida qui abbiamo invece una foto che appunto ce ne rappresenta diverse partite ad anello dove vanno? beh propagheranno il nostro sistema andranno a interagire con quello che trovano qui non vi scordate che ci troviamo nella regione omogenea di spazio che è appunto una regione che ha una stessa struttura cristallina non ci scordiamo che non è detto che ciò avvenga sull'intero manufatto tipicamente questo manufatto metallico una chiave non è costituita da un'unica regione omogenea di spazio qui abbiamo tanti microvolumi che chiameremo grani cristallini ognuno orientato in una maniera differente se facciamo uno schema per esempio bidimensionale il caso di un monocristallo potremmo vederlo per esempio come un insieme questo dovrebbe essere visto come un modello bidimensionale a base quadrata dovremmo dire di un monocristallo d'accordo? con tutti gli atomini sulle posizioni adesso le faccio ovviamente tutte sugli abici ma normalmente non è quello che noi abbiamo normalmente normalmente noi abbiamo regioni di spazio che sono differenti per l'orientazione del reticolo cristallino cioè il reticolo è sempre per esempio quadrato nel bidimensionale cioè cubico corpo centrato cubico fa centrato ma le orientazioni possono essere diverse per esempio questa è in questa direzione questa è lo stesso reticolo di questo quindi la stessa fase ma con direzioni cristallografiche differenti e quindi parleremo sostanzialmente di zone omogenee come densità come elementi chimici eccetera ma differenti con l'orientazione dei reticoli dei piani cristallini questi saranno chiamati appunto grani cristallini saranno appunto zone con la stessa identica struttura cristallina ma con orientazioni differenti non è detto che una dislocazione che può essere simboleggiata con questa specie di tirovesciata può viaggiare qui non è detto che possa saltare nell'alto grano il bordo grano spesso costruirà un ostacolo piuttosto forte non un blocco completo un ostacolo piuttosto forte alla propagazione della dislocazione nell'alto grano e quindi renderà molto più difficile propagarsi da un grano cristallino a un altro quindi le dislocazioni potranno andare avanti moltiplicarsi e andare fino a dove trovano degli ostacoli quando trovano degli ostacoli il macroscopo diventa qualcosa che vedremo nel resto della lezione qui vediamo la bellissima sorgente di Frankrida guardate qua che bella assolutamente molto molto bella foto splendida proprio qui abbiamo l'evidenza a sinistra della sorgente di Frankrida a destra dell'effetto macroscopico nella deformazione vedete in pratica la diciamo che in questo caso stiamo simulando una specie di grano cubico sostanzialmente non è assolutamente realistico insomma e vediamo qua la trasformazione conseguente qui vediamo che la sorgente di Frankrida in questo modello bidimensionale propaga sul piano guardate cosa succede è chiaro che poi si riattiva continuiamo ad applicare il carico si riattiva e poi alla fine si formerà una seconda dislocazione circolare altri addosso del bordo grano chiaro che questo è tutto un modello non è realistico ma è il meccanismo di funzionamento se continuiamo ad applicare il carico a un certo punto avremo così tante dislocazioni che l'ultima non riuscirà più a partire perché è bloccata dalle altre e la sorgente di Frankrida si spegnerà quindi non è che il processo di moltiplicazione può durare all'infinito il processo di moltiplicazione sarà ostacolato poi a un certo punto la stessa densità di dislocazioni che a un certo punto diventerà così alta da rendere impossibile il funzionamento di questi sorgenti tipicamente in un processo di moltiplicazione la densità può arrivare fino a mille volte più alta d'accordo? quindi abbiamo una proliferazione delle dislocazioni stesse assolutamente molto molto spurta qui vediamo che succede in un reticolo in una struttura che presenta delle dislocazioni questo è un grano cristallino che presenta tutte queste piccole mezzo sono dislocazioni queste possono interagire con quelle che viene chiamate spesso floreste di dislocazioni e dar luogo appunto una serie di interazioni che possono essere cooperative intersezioni blocchi eccetera 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 insomma qui abbiamo che due dislocazioni che vanno allo stesso piano che sono in direzioni opposte si possono annullare tra di loro oppure due dislocazioni che si possono accumulare a bordograno abbiamo visto un attimo fa su quella sorta di moneta in cui avevamo quell'accumulo il bordograno risulta essere un ostacolo abbastanza spinto ma non impossibile da superare noi possiamo superare il bordograno dipende dalle direzioni reticolari dipende con un grano che è orientato rispetto all'altro rispetto all'applicazione del carico stesso qui abbiamo delle foto fatte da me personalmente presso un'altra sede dove appunto abbiamo delle dislocazioni accumulati intorno a delle particelle non metalliche notate 200 nanometri 50 nanometri questo è il marker si chiama cioè per farvi capire di che grandezza stiamo parlando sono grandezze assolutamente molto piccole vi ricordo un micron è 10 a meno 6 metri un nanometro è 10 a meno 9 metri quindi grandezze assolutamente molto molto piccole le dislocazioni con i precipitati cioè con quelle particelle che abbiamo cominciato a nominarle ma ancora non le abbiamo ancora viste come entità sono diciamo delle piccole particelle sono delle piccole zone i precipitati cioè possono essere di vario tipo ma sono delle zone che risultano essere una sorta di soluzione di continuità rispetto alla matrice metallica ma sono anche esse metalliche cioè sono delle seconde fasi delle terze fasi che possono in qualche modo ottenersi all'interno di una struttura cristallina vi spiego meglio noi potremmo avere ad esempio all'interno di una struttura cristallina questi qua sono i grani per esempio di una fase potremmo dire cubico a corpo centrato per esempio potremmo avere per motivi legati alla composizione chimica eccetera al trattamento termico eccetera ad esempio delle piccole zone cfc cubico facce centrate che hanno altre fasi però hanno una dispersione tale da essere considerate appunto come precipitati oppure ancora potremmo avere per esempio a bordo grano ma a volte anche intorno di grano dei carburi anche questi sono dei precipitati del tipo M23C6 ad esempio M sta per metallo potrebbe essere FR, cromo, molibdeno d'accordo? quindi tipicamente potrebbe essere un FE, cromo, molibdeno tutto fra parentesi 23C6 oppure potremmo avere ancora dei nitruri degli idruri eccetera tutte queste particelle che sono geometricamente molto più piccole del grano matrice sostanzialmente come interagiscono con le dislocazioni? lo vediamo qua beh infatti lo vediamo un po' male in realtà non è chiarissimo comunque il meccanismo di interazione dipende molto dal comportamento meccanico della nostra particella dipenderà se è una particella che la dislocazione può tagliare o non può tagliare se è una particella molto grande o molto piccola da tutta una serie di fattori geometriche non della nostra struttura comunque se la particella in qualche modo può essere vista la dislocazione cioè è abbastanza piccola deve essere in qualche modo visibile la dislocazione stessa può succedere come vedete qua qui ci sta questo piano che abbiamo qui appunto trasversale e questa sorgente di dislocazioni che crea poi questo tipo di accumulo intorno a questi precipitati accumulo che a sua volta consiste per una altra moltiplicazione delle dislocazioni stesse secondo un meccanismo che appunto può essere asservato in questo lucido e praticamente il superamento può avvenire con questo meccanismo un po' particolare di Orwan che comporta un accumulo delle dislocazioni stesse intorno ai precipitati qui vediamo ancora che cosa una cosa un po' particolare abbiamo due grani il grano blu e il grano rosso immaginiamo che il grano blu vede una sorgente che moltiplica proprio le dislocazioni e il grano rosso sia pieno di dislocazioni vediamo che il bordo grano risulta essere un blocco piuttosto efficace al passaggio delle dislocazioni da un grano a un altro la faccio rivedere che è meglio questo vuol dire che cosa? beh, che più bordi grano ci stanno meno dislocazioni si muovono sostanzialmente come abbiamo capito a livello di comportamento meccanico macroscopico cioè quello che poi è andato a misurare con una macchina di prova per esempio il movimento delle dislocazioni è qualcosa che più impedite più implica un aumento del carico che il vostro sistema può sopportare quindi in pratica se io ho nel mio sistema tanti bordi grano io avrò tanti blocchi sulle dislocazioni giusto? fatemi sicuro la testa fatemi da disegni di vita perfetto questo significa che cosa? che se devo scegliere su un sistema una struttura cristallina con tanti bordi grano oppure una struttura fatta così per una normale applicazione del carico quale struttura esisterà meglio? quella con più bordi grano che è questa cioè quella che ha i grani più piccoli tant'è che esiste poi una relazione empirica sperimentale la relazione di ortecce che ci permette di correlare il carico di riservamento con la dimensione media del grano cristallino con dei coefficienti a e b che dipendono dal metallo eccetera e vediamo che visto l'esponente meno un mezzo quanto più è piccolo il grano cristallino essendo questo denominatore che ha la meno un mezzo tanto più in alto sarà il valore di r con s prevede appunto la conoscenza dei coefficienti a e b che sono coefficienti b quindi vanno semplicemente sperimentalmente determinati però questo è importante per capire che certamente noi sappiamo che le risorse ci sono è difficilissimo evitare che ci siano anche se si può ottenere ma è difficilissimo ed è anche molto costoso a questo punto se ci sono le sfruttiamo le sfruttiamo per esempio come? impedendone il movimento aumentando al massimo per esempio la quantità di bordi grano ovvero diminuendo al massimo la grana cristallina si può giocare metallurgicamente su questi parametri basta saperlo fare appunto durante il processo di solidificazione durante le trasformazioni allotropiche a seguire i trattamenti tecnici durante qui vediamo qualcosa durante il loro movimento le dislocazioni non solo trovano ostacoli a livello di bordi grano ma in realtà la loro stessa densità risulta essere un ostacolo mi spiego meglio prima abbiamo visto quella simulazione relativa ai grani scusatemi agli atom di rame d'accordo? bene quella simulazione in realtà non ci faccia altro che capire che una dislocazione lì per muoversi è tanto più ostacolata quanto più è densa quella foresta che abbiamo visto di questi filamenti d'accordo? quindi certamente un modo per incrementare la resistenza meccanica nel nostro materiale aumentare sembra paradossale ma aumentare la quantità di questi difetti e questo lo scopriremo durante il meccanismo di incrudimento che appunto noi tanto più aumentiamo la densità dei difetti cristallini cioè quanto più aumentiamo la densità di quei difetti lineari che sono la causa di non idealità del comportamento meccanico del suo materiale tanto meglio va a comportarsi sembra abbastanza paradossale ma se ci fa un attimo mentre lo care non lo è difetti superficiali sotto il nome di difetti superficiali possiamo elencare sicuramente la superficie del metallo la superficie del metallo è il difetto superficiale per eccellenza è l'interfaccia che un metallo ha che un manufatto ha con il mondo esterno perché è un difetto? beh perché assoluto l'atomo che sta sul bordo non è in equilibrio come gli atomi che stanno all'interno gli atomi che stanno all'interno del pezzo sono equilibrati tutti gli atomi che stanno intorno l'atomo che sta sul bordo in realtà è in disequilibrio perché fuori c'è il nulla per lui in qualche modo ed è proprio questo nulla e il fatto che lui si trovava circondato solo per metà da altri atomi della sua stessa specie che comporta poi proprietà tipo la tensione superficiale e l'energia superficiale il fatto è che toccando un materiale solido non riuscite a penetrarlo perché appunto c'è una differente capacità di resistenza meccanica inoltre poi la superficie del metallo a livello di ingegneri meccanici ovviamente è fondamentalmente legata alla finitura superficiale voi avete fatto lavorare un pezzo bene quel pezzo potrà essere molto lucido potrà essere più scabroso e tanto più è lucido scabroso tanto diversi saranno le proprietà meccaniche macroscopiche inoltre poi la superficie del nostro metallo è una zona in cui il nostro ambiente esterno interagisce col metallo quindi processi di corrosione ovvero interazione fra il metallo e gli ambienti in cui è presente acqua allo stato liquido o allo stato di vapore processi ossidativi cioè interazione fra metallo e ambienti che contengono o per niente acqua o acqua allo stato di gas qual è la differenza? nel primo caso un chiodo immerso in acqua di mare quello è il caso tipo di corrosione e nel secondo caso una armita allo stato automobile quello è un caso di ossidazione per gas caldo quindi sono proprio tipologie di danneggiamento molto diverse abbiamo ancora bordi grano quel difetto che abbiamo visto un attimo fa cioè il fatto che abbiamo zone del nostro stesso materiale che hanno lo stesso reticolo cristallino ma orientati differentemente ci impone qualche cosa cioè noi abbiamo dei piani cristallografici in una direzione degli identici piani cristallografici ma che sono orientati leggermente diversamente noi dobbiamo poi rendere compatibili queste differenti orientazioni e avremo fra un grano e l'altro cioè fra zone avendo lo stesso reticolo cristallino ma a direzioni cristallografici differenti avremo un'esigenza di renderle geometricamente compatibili altrimenti ci sarebbero dei vuoti che non è accettabile possono anche esserci dei vuoti in un metafogo insomma non è lo stato usuale questa zona in cui si rendono compatibili due reticoli cristallini fra loro simili ma orientati differentemente si chiama appunto bordocrano tipicamente a dimensioni molto distrette dell'ordine di 2-3 distanze interatomiche è una zona fortemente distorta aggiungiamo qualcosa altra se è una zona fortemente distorta è una zona che avrà una energia libera molto più alta voi già sapete avete già intuito dai discorsi fatti stamattina se c'ha più energia libera dentro di sé sarà una zona che per tutta una serie di motivi avrà più predisposizione a far avvenire una serie di processi di trasformazione perché avendo più energia libera può in qualche modo darne di più durante un processo di trasformazione d'accordo? quindi il bordograno caratterizzato da questa forte distorsione interna sarà una zona che presumibilmente potrà essere più facilmente luogo ad esempio di trasformazioni erotropiche e ancora il vetto di impilamento qui abbiamo il bordigrano scusate sono andato leggermente oltre ma intanto qui abbiamo però sui bordigrano ho parlato troppo sulla prima lucida adesso un attimo guardate qui che carino questa comparazione se noi abbiamo dei grani che cosa stiamo guardando in questo momento? due situazioni differenti in realtà se noi prendiamo il nostro sistema costituito da grani di salino e portiamola più o meno alta senza che ci siano trasformazioni allotropiche possiamo avere un processo di crescita del grano di salino e di inglobamento degli altri grani qui vediamo due situazioni relativi a una situazione di isotropia o di dipendenza dall'orientazione ma lasciamo vedere questa differenza in realtà è un po' quello che potete vedere la vostra vasca da bagno quando è piena di bolle se osservate bene le bolle le bolle più grandi tenderanno a inglobare le bolle più piccole perché praticamente tendono gli oggetti sono oggetti che hanno il massimo volume nella minima superficie tendono a inglobare quelli più piccoli perché hanno maggiore energia quelli più piccoli perché devono avere appunto minore superficie in pratica in questo caso vediamo in questa simulazione questa simulazione numerica osserviamo che questi grani cristallini non sono immobili nel tempo assolutamente identici a se stessi ma grazie a volte l'incremento di temperatura diventa anche lì con quale lega abbiamo a che fare eccetera possono evolvere e per esempio cambiare di densità notate qua nel tempo alzando un po' la temperatura i grani tendono a aumentare le dimensioni cosa che come abbiamo visto prima nella legge di Orpecce non è assolutamente una cosa di per sé positiva qui abbiamo altre trasformazioni sui bordi grano queste le sto facendo già a notare adesso mentalmente poi quando andremo a parlare dei trattamenti termici sarà importante capire che se riscaldiamo un materiale possiamo avere sicuramente le trasformazioni eutropiche ma possiamo anche avere delle trasformazioni in cui non c'è un cambiamento di fase ma c'è un cambiamento di grani cristallini guardate qua ve lo ripeto questo perché è interessante da una grana abbastanza fine e riscaldando e aspettando abbiamo poi sperimentalmente una grana più grossolana questo vuol dire un pezzo che ha inizialmente proprietà meccaniche di un certo tipo a vale di questo che sta succedendo dovremmo proprietà meccaniche totalmente differenti guardate qua se io applico la sollecitazione forse si vede meglio dopo qui deformo il mio pezzo guardate nella deformazione cosa consiste cambiano proprio le forme dei grani cristallini quindi deformare un pezzo implica una deformazione macroscopica importante guardate qui cosa diventa ve lo faccio rivedere perché è importante grani equiastici cioè più o meno le sestirezioni deformando diventano quello che appunto sto osservando e se poi dopo la deformazione eventualmente riscaldo guardate qua c'è una ricumpliazione e tende a ricreare la situazione originale un pezzo non è mai uguale a se stesso dipende che storia termica sta subendo o ha subito vediamo qua si formano sottograni guardate qui e riscaldando abbiamo trasformazioni che implicano una nuova nucleazione con una crescita di due occhi abbiamo dei grani che diventano sempre più grandi cosa assolutamente non positiva i grani molto grandi sono una cosa assolutamente non positiva difetti di impilamento abbiamo visto prima i reticoli Bravais i reticoli Bravais si ottengono impilando piani reticolari uno sopra l'altro secondo sequenze ben precise se queste sequenze non vengono rispettate si otterrà per esempio uno strato di atomi estraneo rispetto alla sequenza ottimale quello è un difetto di impilamento per cui per esempio se abbiamo una sequenza che può essere vista come quella che vedete qui può esserci una parte estranea e quella può essere appunto un difetto di impilamento più o meno importante qui vediamo appunto sono delle sigle che vanno a indicare la posizione degli atomi AB 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 oppure ABC 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 in realtà che corrispondono poi a tipologie differenti possiamo avere dei piani estranei come difetti di impilamento ma a livello di comportamento macroscopico questo diciamo forse ha un'importanza abbastanza più bassa qui lo vediamo un po' meglio in questo modello bidimensionale difetti tridimensionali micro e macro vuoti e incursioni non metalliche noi prima abbiamo detto che forse vorrei fare una sosta? Sì? Sosta Ok, fermiamo grazie a tutti